Boccioni lesse le parole del manifesto, che dichiaravano Noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla demerità. I futuristi glorificavano la velocità, la guerra, dichiarando di voler distruggere i musei, le biblioteche e le accademie di ogni genere. Il manifesto futurista era quindi un attacco alla cultura tradizionale, marinè. Poco dopo la pubblicazione del suo manifesto, incontrò Umberto Boccioni, Luigi Russolo e Carlo Carrà.